Tutti e 12 ben allineati Qualche problema per Power of Dreams Con lo stacco E i cavalli che sono partiti Pretenziosa HBD davanti a Pola dei Lupi Poi Pralinspin ha preso la partenza volante dalla seconda fila Il numero 12 di Fall All SM Che però nel tentativo di andare al comando sbaglia Così pretenziosa HBD all'esterno Pralinspin lungo lo steccato Pola dei Lupi Mentre sta recuperando a largo Poseidon R Che adesso punterà dritto su Pralinspin Pralinspin al comando Poseidon R che va a spingere I cavalli che sono così dopo 400 in 32.4 I due più attesi che si prendono per questi primi 500 metri Ha perso qualcosa pretenziosa HBD Mentre ha sbagliato Pola dei Lupi Così terza in corda il 9 di Pina del Rosso Adesso c'è stato un allungo 15.4 per questo paletto Poseidon R non converge allo steccato Anche per un tentativo di inserimento da parte di pretenziosa HBD E così aree in faccia Continua a spingere su Pralinspin I primi 800 Dietro Pralinspin Prova a spostare il numero 9 di Pina del Rosso Che quando siamo al chilometro In 1.19.2 Si affaccia E così Poseidon R Torna a largo di Pralinspin Il match è sempre quello Pralinspin al comando E Poseidon che va a spingere Dalle retrovie si muove anche Poker Team Che è rimasto di trotto e adesso è minaccioso 200 in 15.5 Con al comando Pralinspin Poseidon R che macina di fuori Poker Team che deve scegliere Se andare in terzo o aspettare l'open stretch Pacileo sceglie la seconda Così al comando Pralinspin Davanti a Poseidon R Di dentro ci andrà Poker Team Pralins, Poker e Poseidon Con i tre a lottare per il successo Quando mancano 100 al palo Poker Team sta rimontando Pralinspin Poker Team che sul palo va a vincere Nei confronti di Pralinspin Poseidon R 1.18.7 Poker Team Quota di 16.30